Quando si entra in campo e si gioca non c'è più differenza, di quello che conta è poi la fine che non puoi giocare, quindi puoi sentire, puoi non sentire, puoi segnare, puoi non segnare, puoi parlare, puoi non parlare, di quello che conta è il gioco, quindi non c'è più differenza. La differenza nasce al di fuori da campo, quando tu esci da campo, quindi ti devi mettere in correlazione con l'altra persona che non è più una, come si può dire, una reazione sportiva, ma diventa poi comunque, quando devi appunto comunicare con questa persona, quindi se sono diverse, però quando sono in campo non c'è assolutamente nessuna diversità. Grazie. Grazie.